E' la settimana del derby, c'è Prato-Zenit-Prato. La partita, una partita che sfugge ogni pronostico, una partita che Simone SetteSoldi preparerà come? L'abbiamo preparata per quello che è la partita, è una partita storica e quindi è giusto prepararla come è la partita. Non è una partita uguale a quell'altra, sicuramente, però dobbiamo avere la soddisfazione e il piacere di poterla fare. È una cosa un po' particolare perché poi facevo un po' di conti anche con la società, al di là di tutto quello che poi è la società, la nostra società, la praticità della nostra società, dal presidente Valentini a Enrico Cambelli, vicepresidente, ai nostri dirigenti, al direttore sportivo, ma anche in squadra tra staff e giocatori ci sono 10 ex, ci sono altri 12 ragazzi che sono della provincia di Prato. Quindi, insomma, è una cosa un po' particolare. Poi la storicità del fatto che comunque il primo derby più importante che viene giocato in città lo fa la Zenit e ci inorgoglisce. Una sfida particolare, la Zenit arriva dopo la vittoria con il tutto cuoio e il Prato invece viene dalla sconfitta sul campo del Tau. È una settimana anche molto difficile per quanto riguarda la formazione bianco-azzura con le dichiarazioni taglienti di Mariotti. Che Prato ti aspetta di trovare? Ma io sinceramente l'ho visto il Prato, l'abbiamo visto, non mi spiego perché sia in questa posizione di classifica, perché io sono convinto che è una squadra forte, con un organico sicuramente da prime piazze, quarto, vinto posto sicuramente, e quindi credo che non tocca a me sapere per cosa e per come, ma non mi aspettavo sicuramente il Prato in questa posizione classifica. Noi sappiamo quello del nostro percorso, lo dico dall'inizio dell'anno, la vittoria di domenica è stata una vittoria che ci dà morale, ci dà fiducia e questo è quello che dobbiamo fare partita dopo partita. Quindi l'importante è arrivare all'ultima partita e giocarsi la salvezza. Quindi spero che domenica sia una partita comunque che ci possa dare ulteriori punti. La Zenit cosa non dovrà fare nel derby? Che non dovrà fare? La Zenit deve fare quello che ha cercato di fare tutte le partite, cioè stare in campo bene dal primo minuto e cercare di non concedere, non fare errori che possano dare un vantaggio all'avversario. Quindi se noi saremo bravi, pronti a questa situazione, credo che poi sarà una partita che potremo anche portare avanti con meno difficoltà possibile. Sarà il derby della città. Difficile anche capire per chi fare il tifo, se per il Prato che è la storia, se per la Zenit che è la novità, ma è comunque la squadra della città insieme a quella bianco-azzurri. Allora in tribuna? Ma io credo sia una cosa molto particolare, anche perché siamo tutti pratesi e tutti tifiamo Prato. Quindi vedo in città, quando mi muovo, la gente mi dà le pacche sulle spalle e mi dice vai mister, vai domenica. Però in realtà poi, credo che poi tutti tiferanno per quello che sarà il Prato, l'Inter, la Zenit, tifererà la Zenit, ma poi la città, anche se vede con simpatia la mia squadra, è normale e poi il cuore sarà quello del Prato. L'importante è che sia una partita corretta, una partita che dia soddisfazione a chi la viene a vedere. Potresti togliere un giocatore al Prato? Ma guarda, io credo che il Prato, come ho detto prima, sia una squadra forte, quindi anche se ne togliessi uno, ne rimanerebbero altri dieci forti, quindi è bene che giochino tutti quelli che hanno e poi chi avrà più voglia di vincere, più forza, più capacità, più tutto, porterà a casa la partita. Grazie.